Quanto è importante, professoressa, fare un'iniziativa del genere oggi come oggi a scuola? È importantissimo perché si veicolano nozioni fondamentali per la cittadinanza attiva da parte di questi ragazzi che ancora non conoscono e soprattutto per il nostro futuro, che è il futuro di tutti e quindi in un modo ludico sicuramente più piacevole che non scolastico. Quindi la componente ludica è molto importante in questo caso? Sì, è fondamentale perché i ragazzi sono molto più attenti, molto più interessati al gioco, anche a vincere, quindi è una formula vincente.